Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha fornito i dati sulla diffusione del Covid-19 in Veneto nel consueto appuntamento con la stampa. 888.273 i tamponi totali effettuati da inizio epidemia, oltre 5.000 solo ieri. 19.250 sono i positivi. In isolamento si trovano ancora 758 persone. I ricoverati sono 221. In terapia intensiva ci sono 11 pazienti. I morti da inizio epidemia hanno raggiunto 2.400, uno in più rispetto a ieri. 3.547 sono i pazienti dimessi, 4 ieri. Luca Zaia ha spiegato che sta lavorando ad una possibile nuova ordinanza per il trasporto pubblico. Attualmente ci sono delle penalizzazioni nei limiti dei passeggeri, ma ora la situazione è in fase di studio perché, secondo il presidente, indossando dispositivi di protezione individuale potrebbe essere aumentato il numero dei viaggiatori a bordo dei mezzi. Zaia ha paragonato il viaggio a bordo di mezzi con i viaggi in auto con persone che non sono congiunti e che sono possibili utilizzando le mascherine. L'eventuale ordinanza allo studio andrebbe a cozzare contro le linee generali italiane, quindi bisognerà vedere come a Roma accoglieranno la proposta.